Il punto di ebollizione di una miscela idroalcolica è intermedio rispetto a quello dell'acqua e dell'alcol e sarà tanto più vicino a quello di quest'ultimo quanto maggiore sarà la ricchezza alcolica della miscela. Capovolgendo il concetto si deduce che dal punto di ebollizione di una miscela idroalcolica si può risalire al suo grado alcolico tramite la tabella riportata. La temperatura di ebollizione di una soluzione idroalcolica si alzerà man mano che questa perderà alcol. Duclos ha praticamente calcolato la percentuale di miscela che occorre distillare per esaurire tutto l'alcol presente a seconda del grado alcolico della miscela di partenza. Oggi il valore di un'acquavite non è dato dalla sua gradazione alcolica bensì dal livello di piacere che è capace di donare ma un tempo le acqueviti erano valutate in base alla loro ricchezza alcolica. Fino alla fine del diciottesimo secolo si ricorreva quindi a prove empiriche tutt'altro che precise. Se l'alcol era la parte pregiata della bevanda è logico che anche il valore della materia prima era condizionato da quanto ne conteneva. Per la vinaccia furono creati piccoli alambicchi capaci di estrarre l'alcol presente nelle bucce degli acini d'uva. Interessante notare come già nell'ottocento si fosse giunti a perfezionare questi apparecchi di prova per ottenere un campione rappresentativo di quello che si sarebbe poi ottenuto in produzione per sottoporlo anche alla prova sensoriale. Grazie. 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 Grazie.